Il colorificio astrale nasce nel 1973 e si trova a Brescia in via Verziano 137. L'azienda produce e vende vernici per decorazioni, per rivestimenti esterni, smalti e pitture. Al colorificio astrale si può trovare molto altro. Una zona a belle arti, dove chiunque può esprimere la propria creatività. Trovando sugli scaffali tutto quello che può riguardare la pittura, anche professionale, e una linea dedicata esclusivamente al settore scolastico. Una zona a sicurezza, dove trovare tutti gli accorgimenti necessari per svolgere in completa sicurezza il lavoro. Oltre ad una zona utensileria, che mette a disposizione del cliente una vasta gamma di utensili per lavori di falegnameria e per lavori fai da te. Sul sito internet www.colorificioastrale.com è possibile trovare il catalogo dei colori disponibili e molte altre informazioni. Oppure vi aspettiamo a Brescia, via Verziano 137, telefono 030 3580 125.